Musica Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRMH24 A Guato a Bari nel quartiere Torre Amare muore Lello Capriati, nipote del boss storico del clan mafioso della città vecchia L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola Sull'episodio indaga la direzione distrettuale antimafia Tre colpi alla testa, uno alla spalla, sparati quasi certamente con un solo revolver da un killer a bordo di una moto E' stato colpito e ferito mortalmente così Raffaele Capriati di 39 anni Il nipote del boss di Bari Vecchia, Tonino, ucciso ieri sera nel rione Torre Amare di Bari in un agguato in perfetto stile mafioso Lello era stato scarcerato nell'agosto del 2022 e il suo ritorno in libertà era stato accolto a Bari Vecchia Da festeggiamenti, fuochi d'artificio e video sui social Il nipote del boss aveva finito di scontare la pena di 17 anni Accusato in concorso per l'uccisione di Michele Fazio Il quindicenne ucciso per errore a Bari Vecchia il 12 luglio del 2001 Il ragazzo Fazio fu ucciso per errore durante una faida tra clan rivali Mentre rientrava a casa nel cuore della città vecchia Secondo l'accusa, sparare per errore al ragazzino fu Leonardo Ungredda ucciso in un agguato nel 2003 Per il delitto furono condannati fra gli altri componenti del commando Raffaele Lello Capriati ucciso ieri sera e Francesco Annoscia rispettivamente a 17 anni di reclusione e 15 anni e 8 mesi Le indagini sull'omicidio della scorsa sera potrebbe essere riconducibile all'attività criminale dei clan Capriati e sono coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Bari Nel prossimo servizio la storia di Michele Verdi imprenditore di la terza mortosuicida a gennaio scorso dopo la svendita della sua azienda agricola all'asta Oggi il figlio Arcangelo chiede giustizia mentre il movimento Legalità sollecita modifiche all'iter delle vendite all'asta Mio padre era un uomo che per la famiglia ha fatto di tutto Michele Verdi aveva 53 anni era il titolare di un'azienda zootecnica in provincia di Bari tra Altamura e la Terza dove si è tolto la vita dopo la messa all'asta della sua realtà produttiva Sono passati tre mesi dalla mattina del 4 gennaio scorso Oggi per il figlio Arcangelo è drammatico ricordare e rivivere quel momento è una data da non ricordare però purtroppo ce la ricordiamo è una giornata spaventosa si cerca di dimenticare ma anche ripeto è difficilissimo Nonostante un valore di 330 mila euro per il meccanismo delle aste l'azienda veniva messa in vendita a meno di 25 mila euro il tutto per coprire un debito di 40 mila per questo Verdi temendo di perdere tutto si è impiccato nel giorno in cui gli avvocati del tribunale dovevano visitare la sua proprietà il figlio Arcangelo grazie anche a una tempestiva raccolta fondi avviata dal movimento legalità riuscirà a salvare l'azienda oggi però chiede giustizia per suo padre sono riuscito a riscattarla e poi ovviamente con i tempi che corrono non abbiamo avuto non ha avuto la possibilità di poter pagare determinate somme a quello che c'era da pagare è lo stesso movimento legalità a chiedere oggi alcune modifiche sull'iter delle vendite all'asta ma non solo abbiamo presentato una proposta di regge alla commissione antimafia della regione Puglia adesso se ne farà carico e lo presenterà anche al governo nazionale i motivi di questa proposta sono innanzitutto le aziende non possono essere vendute al di sotto del 50% del loro valore stimate dai periti del tribunale l'altra questione è che chiediamo una seconda opportunità allungare i tempi dei mutui, delle scadenze per poter stare nelle aziende e produrre con il tavolo di oggi su Melfi alla presenza del presidente della Basilicata Bardi inizia un percorso di analisi dei singoli stabilimenti Stellantis con sindacati, regioni, azienda e Anfia domani sarà il turno di Mirafiori e giovedì di Diatessa una seconda fase anche per comprendere quali siano le strategie che Stellantis vorrà mettere in campo alla fine di questo secondo tempo vorremmo raggiungere un documento conclusivo vincolante sia per l'azienda che per il governo delle regioni che sia condiviso dalle parti sociali così il ministro delle imprese del Made in Italy Urso è in apertura del tavolo sullo stabilimento Stellantis di Melfi di cui vi forniremo maggiori dettagli e aggiornamenti durante le prossime edizioni Il 7 aprile si terranno le primarie del centrosinistra barese in campo scendono anche i BIG nessun nome al momento sul centrodestra Mancano pochi giorni alle primarie del centrosinistra barese inizia lo sprint finale per i due candidati Vito Leccese e Michele Laforgia a riscaldare le ultime fasi della campagna elettorale c'è l'attesa per i cosiddetti BIG giovedì 4 aprile sul palco in Piazza Libertà accanto all'avvocato Laforgia ci saranno l'ex presidente della regione Puglia Nichi Vendola e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte La risposta del Campodem arriverà il giorno dopo venerdì 5 con l'arrivo a Bari della segretaria Elislein a sostegno di Vito Leccese ma durante le festività pasquali c'è stata anche l'occasione per alleggerire i toni con i candidati che hanno incontrato elettori e simpatizzanti in giro per la città Vito Leccese ha poi provato a sdrammatizzare le tanto discusse affermazioni del presidente Emiliano con un video diffuso sui social Una volta tanti anni fa lo accompagnai a Bari Mentre nel capoluogo pugliese il campo largo si prepara a capire chi sarà il candidato alla carica di primo cittadino continua il lavoro della commissione d'accesso nominata dal ministero degli interni a seguito dell'indagine della DDA che ha portato tra gli altri all'arresto degli ex consiglieri comunali e regionali Olivieri e Lorusso Lo spettro del commissariamento del comune aleggia più che sulle primarie sulle elezioni del 7 e dell'8 giugno con la possibilità che vengano posticipate in caso di scioglimento prima delle consultazioni o che il provvedimento possa colpire il nuovo consiglio Intanto dal fronte del centro-destra non c'è ancora un'indicazione chiara sul nome del candidato Nei giorni scorsi si era fatta concreta l'ipotesi che la scelta potesse ricadere sul magistrato antimafia Stefano D'Ambroso ma al momento nessuna ufficialità Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo la cooperativa Ability Form chiede l'impegno degli enti locali In Italia soffre di un disturbo dello spettro autistico un bambino su 77 nella fascia d'età compresa fra 7 e 9 anni e i maschi sono più colpiti rispetto alle femmine come indicano le stime più recenti diffuse dal Ministero della Salute Sono inoltre circa 500.000 le famiglie nelle quali è presente almeno una persona con disturbi dello spettro autistico e questo è il quadro che emerge in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo che si celebra ogni anno il 2 aprile che vede i monumenti italiani illuminarsi di blu Sono tante le iniziative organizzate a livello territoriale fra queste anche attività di sensibilizzazione avviate da cooperative del territorio in Basilicata fra queste Ability Form sulla costa ionica lucana che ricorda l'importanza della sensibilizzazione Quest'anno abbiamo voluto fortemente chiedere alle istituzioni di accendere questa luce blu di far sentire le famiglie vicino far sentire e far sì che comunicare quindi alle famiglie che le istituzioni ci sono e vogliono comunque cominciare a farsi vedere e sostenere e sostenere illuminando con la luce blu un palazzo o un luogo singolo di ogni amministrazione questo aiuterà a far capire alle famiglie che l'impegno c'è e ci sarà hanno aderito già il comune di Varsini il comune di Policoro attendiamo fino a stasera l'attenzione di altre amministrazioni che sicuramente coglieranno il nostro invito a questo evento Basilicata e Puglia metà classifica tra le regioni con i comuni non ancora sbarcati sull'app Io rispettivamente l'11% e il 15% tra le città capoluogo sale sul podio Potenza dopo Roma e Bologna per aver attivato il maggior numero di servizi 55 sulla piattaforma a disposizione dei cittadini si va dal pagamento dell'Atari canoni ERP trasporto scolastico servizi cimiteriali fino all'invio di notifiche aggiornamenti su pratiche come la procedura di assegnazione di un numero civico o richieste di buoni libro con quasi 38 milioni di download quattro volte tanto rispetto a marzo 2011 la Puglia grazie 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 di essere un anello e avere una lunghezza tra i 6 e i 10 chilometri. Il club alpino italiano e la federazione italiana Superamento Handicap hanno poi selezionato 21 cammini e identificato un tratto di questi sui quali portare persone con difficoltà motoria. Per partecipare bisogna iscriversi online. Calcio di serie B, il Bari pareggia 1 a 1 a Modena, Puccino risponde a Palumbo, i biancorossi ora sono al 14esimo posto con un solo punto di vantaggio sulla zona play-out. Un punto che serve a poco, il Bari torna da Modena solo con un pareggio. Era lecito aspettarsi di più contro un'avversaria che non vinceva dal 27 gennaio scorso. Era lecito aspettarsi di più soprattutto perché mister Iachini ha avuto due settimane di tempo per lavorare sulla testa e sulla forma fisica dei suoi. E invece sul campo, ancora una volta, si è visto ben poco e forse per la prima volta, si solleva qualche dubbio sullo stesso mister, sulla sua capacità di gestire lo spogliatoio e i cambi, con la sostituzione all'intervallo di Sibilli, ammonito e nervosissimo e Puskas, che ha di fatto lasciato in campo un Bari spuntato almeno fino all'ingresso, prima di Bellomo e poi di Diallo. L'unica costante della stagione del Bari è la sfortuna. Anche a Modena i biancorossi vanno in svantaggio per un episodio, l'ennesimo. Vicari si oppone col corpo al destro di Manconi. I giocatori del Modena chiedono subito il calcio di rigore, ma l'arbitro lascia correre e il VAR a richiamarlo. Le immagini non fugano i dubbi perché Vicari sembra toccare il pallone con il gomito destro e non col braccio sinistro. L'arbitro Bonacino però concede il tiro dal dischetto. Davanti a Brenno si presenta Palumbo che non sbaglia e al sesto minuto della ripresa il Modena è avanti. Passano 11 minuti ai biancorossi e riportano la gara in equilibrio. Lulic dalla bandierina serve in posizione retrata Puccino che dà la lunetta. Calcia di destro e segna l'1-1. Nonostante i due gol, la partita resta brutta e povera di emozioni. Il Bari riesce ad arrivare in avanti con una certa continuità ma non c'entra mai la porta. Alla fine vicino al gol vittoria ci va il Modena in pieno recupero. Ponsi di sinistro pesca in area di rigore strizzolo che di testa colpisce il palo. Battistella si fionda sul pallone ma Brenno e Benali in qualche modo evitano il peggio. E il pareggio all'improvviso sa di punto guadagnato. In chiusura la notizia di un ennesimo incidente sul lavoro in Basilicata. Un uomo di 53 anni di pomarico e in gravi condizioni dopo una caduta da un'altezza di 4 metri era al lavoro sulla copertura di un capannone a Pisticci. L'impatto è stato violento e l'operaio ha riportato un trauma cranico. ricoverato in rianimazione all'ospedale San Carlo di Potenza si indaga per individuare e comprendere la dinamica dell'incidente. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.